Imparare a imparare. Non c'è abilità che possa fruttare di più nella vostra vita di quella di imparare in modo efficace. La duplice forza della globalizzazione e del progresso tecnologico fa sì che i tempi della carriera in un'unica azienda siano ormai lontani. Una persona media può cambiare lavoro da 10 a 15 volte e pianificare più carriere nel corso della vita sta diventando una necessità. Oltre ai vantaggi della carriera ci sono anche quelli personali. Avete mai provato a imparare uno strumento prima di lasciarlo a prendere polvere in soffitta? Che ne dite di imparare una lingua su duolingo per poi non riaprire più il corso dopo la prima settimana? Se siete come me è probabile che ci sia un cimitero di hobby e interessi morti iniziati con grande entusiasmo e poi rapidamente esauriti. Di fronte a tutto questo, avete una scelta. Scegliere la stagnazione o la crescita? Questo articolo è per coloro che scelgono la seconda. Contiene una sintesi di tutti i libri e gli articoli che ho letto sull'apprendimento, con la speranza che possiate applicarli nella vostra vita personale e professionale. È suddiviso in tre sezioni principali, migliorare la vostra cassetta degli attrezzi per l'apprendimento, le comuni trappole dell'apprendimento e i passi per un apprendimento efficace. Migliorare la vostra cassetta degli attrezzi per l'apprendimento. Di seguito sono elencate una serie di strategie che, se applicate, possono avere un grande impatto sulla vostra capacità di apprendere e conservare le informazioni. La cosa migliore è usarle insieme. Richiamo, questa strategia consiste nell'interrogarsi sugli argomenti appresi, il modo più comune per farlo sono le flashcard. Uno studio ha dimostrato una differenza di ritenzione del 46% tra gli studenti che hanno utilizzato il richiamo attivo come strategia di apprendimento e il gruppo di controllo che ha utilizzato una tecnica di lettura passiva. Quando ci si esercita a ricordare, è importante utilizzare la ripetizione distanziata. Le ripetizioni distanziate consigliate sono di un giorno, tre giorni, sette giorni e 21 giorni per compensare la curva di dimenticanza. Schedatura, questa strategia si riferisce al collegamento di singoli pezzi di informazione in unità più grandi. Per esempio, si possono ricordare i precetti buddhisti per i laici legandoli all'acronimo KILLS, no Killing, no Intoxication, no Lying, no Stealing, no Sexual Misconduct. Si possono anche raggruppare le informazioni in immagini. Per esempio, la gerarchia della memoria del computer è composta da 5 livelli, che possono essere visualizzati come un 5 accanto a una piramide. Interleaving, interlacciare significa mescolare l'apprendimento con altri argomenti e approcci. Uno studio ha dimostrato che il blocco della pratica su un tipo di problema portava gli studenti a non essere in grado di distinguere i problemi in seguito, mentre l'interleaving portava a risultati migliori. Nel mio caso, ogni volta che ho un argomento che vorrei approfondire, raccolgo diverse risorse. Quando ho voluto imparare il machine learning, ho combinato l'apprendimento tecnico attraverso i libri di testo e i corsi online, con la fantascienza, i programmi televisivi, i podcast e i film. Questa strategia può essere utilizzata anche per campi che hanno una qualche relazione tra loro. Ad esempio, la chimica e la biologia, dove potrete notare sia le somiglianze che le differenze. Pratica deliberata, questo tipo di pratica si riferisce alla concentrazione mirata con l'obiettivo di migliorare le proprie capacità. Tenendo presente che per alcune materie è più facile fare pratica deliberata rispetto ad altre, in generale il gold standard della pratica deliberata consiste in quanto segue. Un circuito di feedback sotto forma di gara o di test. Un insegnante che possa guidarvi. Un regime di pratica personalizzato. Fuori dalla vostra zona di comfort. Ha un obiettivo o una prestazione concreta. Quando ci si esercita, è necessario concentrarsi completamente. Costruisce o modifica le abilità. Ha un metodo di allenamento o un modello mentale noto da parte di esperti del settore a cui si può aspirare. Il vostro insegnante ideale, un insegnante esperto può fare la differenza tra il superamento o il fallimento. Per questo motivo, è importante considerare i seguenti aspetti quando si cerca un insegnante. È qualcuno che può tenervi aggiornati sui progressi specifici. Fornisce esercizi di pratica. Indirizza l'attenzione sugli aspetti dell'apprendimento a cui si deve prestare attenzione. Aiuta a sviluppare rappresentazioni mentali corrette. Fornisce un feedback sugli errori che si stanno facendo. Fornisce un modello di aspirazioni per una buona performance. Test dinamici. Durante l'apprendimento è importante avere una sorta di ciclo di feedback per vedere quanto si sta effettivamente imparando e dove sono le lacune. Il modo più semplice per farlo è con le flashcard, ma altri modi possono essere la scrittura di un post sul blog o la spiegazione di un concetto a un amico che può evidenziare le incongruenze. In questo modo, si noteranno rapidamente le lacune nelle proprie conoscenze e i concetti da rivedere nelle sessioni di apprendimento future. Tecnica del pomodoro, è una tecnica che ho utilizzato con costanza negli ultimi anni e di cui sono rimasto molto soddisfatto. Il concetto è piuttosto semplice, si avvia un timer per 25 o 50 minuti, al termine dei quali ci si concentra su una sola cosa. Una volta scaduto il timer, si fa una pausa di 5 o 10 minuti prima di ricominciare. Trappole comuni dell'apprendimento. Trappola dell'autorità. La trappola dell'autorità si riferisce alla tendenza a credere che qualcuno sia corretto semplicemente per il suo status o prestigio. Per apprendere in modo efficace, è importante mantenere una mente aperta ed essere in grado di considerare più idee contraddittorie. Questo vale soprattutto quando si inizia ad approfondire un campo di studi in cui alcune questioni sono ancora oggetto di dibattito. Mantenere una mente aperta e fare riferimento a più risorse è fondamentale per formare i giusti modelli mentali. Pregiudizio di conferma, cercare solo le conoscenze che confermano le convinzioni esistenti e ignorare le controprove. Se vi trovate d'accordo con tutto ciò che state imparando, trovate qualcosa con cui non siete d'accordo per mescolare le cose. Effetto Dunning-Kruger, non rendersi conto di essere incompetenti. Per combatterlo, trovate il modo di mettere alla prova le vostre capacità attraverso test dinamici o in forum pubblici. In Stellung, la nostra mentalità ci impedisce di vedere nuove soluzioni o di afferrare nuove conoscenze. Per contrastarlo, imparate a fare un passo indietro rispetto al problema e a prendervi una pausa. A volte basta una doccia calda rilassante o una lunga passeggiata per riuscire a superare una difficile sfida di apprendimento concettuale. Illusione della fluidità, imparare qualcosa di complesso e pensare di averlo capito. Ad esempio, si può leggere degli integrali di calcolo pensando di averli capiti, ma poi, al momento del test, non si riesce a dare nessuna risposta corretta. Per questo motivo, il modo più rapido per disinnescare questa illusione è avere una sorta di circuito di feedback per verificare la propria comprensione. Un altro modo potrebbe essere quello di spiegare ciò che avete imparato a qualcuno più intelligente di voi. Multitasking, passare continuamente da un compito all'altro e da una modalità di pensiero all'altra. Quando si impara, è importante concentrarsi completamente sul materiale da apprendere. Lasciando che l'attenzione venga dirottata dalle notifiche o da altre attività meno importanti, si perde la capacità di entrare in uno stato di flusso. Fasi dell'apprendimento. Prima di procedere con queste fasi, è importante compilare una serie di compiti e risorse a cui fare riferimento durante il tempo dedicato all'apprendimento. Non volete perdere tempo a filtrare i contenuti, quindi assicuratevi di avere il materiale didattico pronto. Per prima cosa, controllate il vostro stato d'animo. Siete assonnati barra agitati barra arrabbiati. Se è così, cambiate il vostro stato d'animo prima di iniziare a studiare. Può essere sufficiente fare una passeggiata, bere una tazza d'acqua o fare un pisolino. Prima di affrontare il materiale, fate del vostro meglio per dimenticare ciò che sapete sull'argomento, aprendovi a nuove esperienze e interpretazioni. Durante l'apprendimento, mantenere una modalità di pensiero attiva ed evitare di cadere nell'apprendimento passivo. Questo consiste nel porre domande, sollecitare e cercare di collegare il materiale alle esperienze precedenti. Una volta raggiunta una certa soglia di materiale, si può ricorrere a test dinamici con i nuovi concetti utilizzando flashcard con ripetizioni distanziate per convertire l'apprendimento in memoria a lungo termine. Una volta acquisita una buona padronanza del materiale, si può procedere a insegnare i concetti a qualcun altro. Può trattarsi di un amico o anche di uno sconosciuto su internet. Per mettere a fuoco ciò che avete imparato, riproducetelo o incorporatelo in qualche modo nella vostra vita. Ciò può comportare la scrittura, la trasformazione dell'apprendimento in una mappa mentale o l'integrazione con altri progetti a cui si sta lavorando. Il vostro viaggio di apprendimento. Vi sfido a rivisitare un vecchio hobby o progetto di apprendimento e a utilizzare alcune delle tecniche descritte in questo articolo. Rendetevi conto che ci potrebbero essere degli inciampi lungo il percorso e un ritorno alle vecchie abitudini, ad esempio, evidenziare e rileggere il testo, ma continuate a provare e vedrete presto quanto sono efficaci i nuovi strumenti nella vostra cassetta degli attrezzi per l'apprendimento.